Buonasera e bentrovati, eccoci per un'altra puntata di In Cammino. Oggi parliamo di una presenza numerosa, silenziosa e indispensabile in tante nostre comunità, in tantissime parrocchie italiane. Parliamo questa sera dei ministri straordinari della comunione eucaristica. Sigla. E ne parliamo con Don Raul Stortori, bentrovato Don Raul. Buonasera. Del Servizio per la Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma e collegato da Milano diamo il benvenuto. Buonasera Monsignor Fausto Gilardi, bentrovato Don Fausto. Buonasera a tutti. Responsabile del Servizio per la Pastorale Liturgica dell'Arcidiocesi di Milano. Partiamo proprio da lei Don Fausto. Ho parlato di una figura, di una presenza silenziosa e indispensabile, quella del ministro straordinario dell'eucaristia. Ma proviamo a delinearlo. Chi è il ministro straordinario della comunione eucaristica? Il ministro straordinario della comunione eucaristica è un battezzato che avverte ad un certo punto la chiamata a servire nella sua parrocchia in qualche modo a partecipare all'attività ministeriale dei sacerdoti. si mette a disposizione, compie un discernimento con il parroco e il parroco trova in lui delle caratteristiche che lo rendono idoneo a questo servizio per cui si rivolge alla diocesi e chiede che questo battezzato riceva il mandato e possa esercitare il ministero straordinario della comunione eucaristica. Don Raul è un ministero straordinario che però entra nell'ordinarietà di una vita parrocchiale. Un aiuto al parroco ma non solo. È una presenza indispensabile non solo perché aiuta il sacerdote a distribuire la comunione. C'è molto di più, no? Certo, certamente il ministro straordinario della comunione crea connessioni. Aiuta il parroco ad entrare nelle case, nelle realtà. A lui aiuta il cappellano ad entrare nelle stanze di ospedale, delle case di cura, cappellano ospedaliero. È un servizio di vicinanza, mosso sinceramente dalla carità. Ecco, è la carità della vicinanza alle persone e il ministro straordinario è un cristiano che agisce in nome della Chiesa. Quindi rende presente tutta la comunità cristiana presso il letto del malato, presso coloro che sono impossibilitati a partecipare all'eucaristia domenicale e perché sono costretti nelle case, perché sono nella fragilità. Certamente è un servizio di prossimità, di ascolto, in qualche modo il volto bello della Chiesa che si fa vicino a chi è sofferente, a chi è fragile, a chi è povero. La più grande povertà è proprio la malattia. Don Fausto, quanti sono i ministri dell'eucaristia nella Diocesi di Milano? Anche per capire di che movimento stiamo parlando. Attualmente sono 9.782, di cui 3.247 uomini e 6.525 donne. E come lo giudica questo numero? Beh, dato dalla necessità, la Diocesi è certamente grande, supera i 5 milioni, i sacerdoti avvertono l'importanza di tenere vicini gli ammalati, gli anziani che non possono partecipare alla liturgia in parrocchia e ultimamente anche la contrazione numerica dei presbiteri, dei diaconi ha fatto sì che questi ministri potessero aiutare nella distribuzione della comunione durante la liturgia. Don Fausto, come ci si prepara a diventare ministri dell'eucaristia? Almeno nella Diocesi di Milano? Sì, inizialmente c'è questo colloquio del futuro ministro con il parroco, poi la richiesta fatta alla Diocesi. La Diocesi organizza ogni anno 5 o 6 corsi di 6 incontri, ogni incontro 2 ore e mezzo, 3, in cui vengono affrontati alcuni temi inerenti a questo servizio. Innanzitutto la spiritualità del ministro stesso, perché è importante che questa occasione particolare porti il ministro a crescere nella sua vita spirituale. Poi si parla dell'eucaristia, della liturgia e c'è anche una preparazione per accostare gli ammalati, gli anziani, in una preparazione legata un po' a questa situazione particolare di vita. Anche questo è interessante perché, come avete ascoltato, avete letto anche in quelli che noi chiamiamo i sottopancia, sotto le qualifiche dei nostri ospiti, Don Raul è del servizio per la pastorale sanitaria, mentre Monsignor Gilardi è della pastorale liturgica. Don Raul, questi sono due uffici che dialogano per formare i futuri ministri. È proprio così, pastorale sanitaria, pastorale liturgica, ma anche Caritas, perché spesso veniamo a conoscenza di situazioni difficili che sono nelle case delle povertà, non soltanto quelle della malattia, ma anche povertà esistenziali, povertà economiche. E allora il ministro Eucaristia, come dicevo prima, crea comunione, crea relazione, ma crea anche conoscenza all'interno della comunità cristiana reciproca. Anche per noi c'è un cammino di preparazione di dieci incontri, due cicli all'anno, una preparazione che tiene conto appunto della liturgia, della saga scrittura, ma anche delle componenti umane. Coloro che svolgono un servizio nei luoghi di cura avranno degli incontri ulteriori organizzati con il nostro servizio, con i cappellani, anche per sapersi accostare nel momento della malattia con parole adeguate, con atteggiamenti, linguaggi adeguati, anche linguaggio del corpo. È interessante poter approfondire anche questo tipo di linguaggio. Quindi formazione da una parte, servizio dall'altra, anche predisposizione umana, non solo il percorso di fede, ma serve anche un indole, no? Per fare questo tipo di servizio, no? Infatti io amo dire che è una vera e propria vocazione, è un ministero, dunque un servizio nella Chiesa, per la Chiesa. Ogni ministero nella Chiesa ha bisogno di discernimento. La persona certamente potrà sentire nel suo cuore il desiderio di servire la Chiesa, il popolo di Dio, però sarà il parroco, insieme agli altri ministri, insieme alla comunità cristiana, a identificare colui o colei che sono adeguati per questo ministero. Mi dicevi fuori onda che sono più di 3.000 a Roma, no? Nella Diocesa di Roma ci sono più di 3.000 ministri, 3.002, sono distribuiti per la maggioranza a servizio nelle parrocchie, un centinaio, poco più, nei luoghi di cura. Allora, noi ci fermiamo adesso solo per un attimo, poi torniamo dalla pubblicità, e vi portiamo con le immagini proprio in una parrocchia a Milano, proprio a conoscere personalmente un ministro straordinario della comunione eucaristica e lo seguiremo anche proprio nel suo servizio a casa di una signora. Quindi dopo la pubblicità. Eccoci qua, stiamo parlando questa sera dei ministri straordinari della comunione eucaristica, li vediamo spesso affiancare il sacerdote nel momento della distribuzione della comunione in chiesa e poi magari uscire alla fine della messa per raggiungere gli ammalati, la chiesa, un prolungamento della chiesa, quel ministro che parte per andare dalla persona che vorrebbe essere lì in chiesa ma non può farlo per diversi motivi di salute e non solo. Ne stiamo parlando con Don Raul Stortoni del Servizio per la Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma e con Monsignor Fausto Gilardi che è responsabile del Servizio per la Pastorale Liturgica dell'Arcidiocesi di Milano. Come anticipato, allora, vi portiamo a conoscere da vicino alcuni ministri straordinari dell'eucaristia di Milano e anche andremo proprio a casa di una persona che attende ogni settimana l'arrivo del ministro. Vediamo. I ministri straordinari presenti in questa comunità sono 19 che vanno dagli ammalati e che distribuiscono quando serve anche la comunione qua in chiesa. Vivo questa missione con una grande gioia perché porti comunque l'eucaristia a una persona che l'aspetta e sicuramente con una felicità per il ritorno che questa attività comporta, per la stessa relazione umana che si crea con le persone che poi incontri in questo servizio. Queste persone sono persone che quando potevano uscire erano persone che venivano alla messa. L'eucaristia per loro è un momento importante e il poterglielo portare a casa si sentono in piena comunione con la comunità che non li lascia soli. I malati quando arriviamo sono estremamente contenti sia per la visita ma soprattutto per quello che si porta e per il momento di preghiera che si crea, la comunicazione anche di una piccola testimonianza che insieme si dà e che magari non è così solita nella vita di tutti i giorni per persone che difficilmente escono di casa. Ciao Michelina, sono Bianca! Già quando rispondono al citofono li senti che erano in attesa, che ti stavano aspettando. Hanno veramente cura dell'accoglienza del Signore. Quando tu entri in queste case il tavolo è pronto, alcuni di loro accendono una candela, altri ti mettono lì il tovagliolo del servizio bello perché loro aspettano questo momento, lo accolgono, hanno cura di questo momento. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Una delle persone a cui porto l'Eucaristia mi ha inserito insieme alle figlie nella sua preghiera alla fine di questo piccolo rito e mi tratta ormai come una figlia, anzi mi rimprovera quasi come rimprovera le sue figlie. E questo ci ha reso veramente ancora più una piccola comunità che cammina insieme. Il corpo di Cristo. Amen. E allora salutiamo e ringraziamo anche la signora Michelina che ci ha fatto entrare in casa sua, Monsignor Gilardi. Qui c'è gioia, c'è prossimità, c'è cuore, c'è una presenza della parrocchia, della comunità che fa sentire attivi anche chi non può essere per motivi di salute. Davvero appare la Chiesa come mistero di comunione attorno all'Eucaristia che è il memoriale della Pasqua di Gesù. Questi momenti ricchi di umanità sottolineano proprio questo aspetto della comunione. Don Raul, il fatto di essere nelle case e esserli anche a nome di tutta la comunità è come se fosse veramente un rappresentante del parroco ma non solo, di tutta la comunità fa anche un supporto di sentinelle. Fa scoprire situazioni che magari dall'esterno non si vedono. Entrando in casa si creano relazioni e poi si scoprono delle sofferenze e allora lì la comunità poi si può attivare. Certamente il servizio del Ministro straordinario della comunione è un servizio di grande prossimità. È quel volto di quella Chiesa bella in uscita che tutti desideriamo vedere. È importante soprattutto l'ascolto che loro fanno e l'amicizia che creano. In fondo il metodo di Gesù è il metodo dell'amicizia. Tutto il Vangelo, tutta la buona notizia passa attraverso una relazione amicale, di fiducia reciproca e questa alimentata dalla parola di Gesù e dal suo corpo e dal suo sangue. La vicinanza della comunità, nelle case, la vicinanza delle persone è veramente un valore aggiunto per le nostre comunità cristiane perché la Chiesa non è soltanto quella che noi possiamo vedere radunata la domenica in Chiesa, nell'edificio, ma è costituita da tutti coloro che sono nelle case, che sono negli istituti di cura, nelle case di reclusione, tutti i nostri cristiani che abitano ogni ambiente. È importante che il ministro sia presente insieme agli altri ministeri perché si possa creare una connessione, una relazione, una comunità veramente in cammino, come questa trasmissione si chiama. Ecco, in cammino sinodale, possiamo dire in ascolto reciproco. E questo è un dato molto interessante, mi permetto di soffermarmi su questo. Siamo in un tempo sinodale e i malati con la loro esperienza, i loro desideri, comunicano il loro modo di vivere la relazione con Cristo, suggeriscono anche alla comunità cristiana delle scelte che il ministro dell'Eucharistia riferisce in parocchia, ma che il paroco stesso, una volta tanto recandosi nelle case per amministrare altri sacramenti come l'unzione, come la confessione, può ascoltare direttamente. Monsignor Gilardi, un'esperienza come quella dei ministri dell'Eucharistia di fatto fa crescere tutta la comunità. Stiamo parlando di sinodo, spesso qui riecheggia il termine della corresponsabilità. Qui si vede in maniera plastica questa dimensione di collaborazione tra comunità, parroco e chi appunto in qualche modo gira la comunità, no? Sì, la comunità cresce proprio nella corresponsabilità. Ognuno si rende presente con le sue capacità, col ministero a cui è chiamato ed ha così un volto più bello della comunità cristiana, un volto di comunione, un volto di dedizione. Ed è bello che anche queste persone che ormai non partecipano più attivamente alla vita della comunità, però sono presenti nell'attenzione pastorale della parrocchia, sono presenti nell'affetto della gente. E poi, Don Fausto, diciamo, è anche un aiuto, se così si può dire, proprio al tempo e al lavoro e al servizio del parroco? Certamente, perché questi ministri non sostituiscono il parroco, ma aiutano il parroco a leggere i bisogni della comunità e diventano una mediazione tra il parroco, queste persone anziane ammalate e la loro famiglia. Il parroco certamente non deve esimersi dall'andare a trovare l'ammalato. A suo tempo andrà anche il parroco appunto per celebrare il sacramento della confessione o anche per una visita di consolazione, però è introdotto da questa figura che settimanalmente, ogni 15 giorni, a seconda dell'organizzazione, si avvicina l'ammalato. In questo senso, Don Raul, in chiusura, è importante ritornare a quello che diceva in apertura, alla formazione, ritornare anche su un percorso di fede, ma soprattutto poi anche un approccio che spesso diventa anche, diciamo così, tecnico, rispetto ad alcune anche situazioni di malattia. Infatti, la formazione iniziale non è l'unica formazione, ma ogni anno nella nostra diocesi, immagino in tutte le diocesi d'Italia, c'è un aggiornamento, qualche incontro di aggiornamento su tematiche specifiche, perché il servizio sia più completo, più vero e più efficace. E allora, grazie per la vostra testimonianza, questa sera qui a In Cammino, grazie ad Oralo Stortoni del Servizio per la Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma e grazie anche a Monsignor Fausto Gilardi, collegato da Milano, responsabile del Servizio per la Pastorale Liturgica dell'Arcidiocesi di Milano. Solo qualche istante per ricordarvi ancora, se non l'avete ancora fatto, di scaricare la nostra app Play 2000 per rivedere tutti i programmi di TV 2000, anche di In Blu 2000, così per non perdere e per poter rivedere i nostri programmi. Grazie per essere stati con noi, noi ci rivediamo domani sera, come sempre, per un'altra puntata. A presto e buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.